Si è svolta questa mattina nella sede della provincia di Chieti l'assemblea conclusiva del lavoro delle giurie popolari del premio nazionale di cultura Benedetto Croce di Pescasseroli giunto alla undicesima edizione. La manifestazione è organizzata in sinergia dal comune di Pescasseroli, dalla giuria del premio Croce e dalla dirigenza del liceo classico Gian Battista Vico di Chieti ed è inserita nel cartellone del maggio teatino 2016. Ad ognuna delle giurie popolari è stata assegnata una delle tre sezioni del premio Croce, saggistica, narrativa e letteratura giornalistica. Quasi commovente devo dire la partecipazione di questi ragazzi perché spesso diciamo, vabbè non importa niente, ormai il telefonino, il web e invece i dati dicono che si è tornati alla lettura del cartaceo. C'è un leggero ma significativo incremento nella lettura dei libri e delle pubblicazioni in genere. Questo è confortante perché significa che la superficialità sta facendo posto lentamente alla riflessione. Il premio vuole contribuire nel ricordo di Croce proprio a questo. Nell'occasione è stato presentato anche l'ultimo romanzo della scrittrice Dacia Maraini intitolato La bambina ed il sognatore.